È partito il conto alla rovescia da lunedì 24 ottobre per alcuni residenti del centro storico. Non ci sarà più il porta a porta per il ritiro dei rifiuti per la raccolta differenziata, ma dovranno depositare i loro rifiuti nel nuovo sistema di cassonetti intelligenti collocati in sei aree del centro storico. La nuova modalità di raccolta sarà una sperimentazione che coinvolgerà per adesso i 900 residenti nella ZTL compresa tra via 11 Febbraio, via Gramsci e via San Francesco. Il passaggio alle isole ecologiche intelligenti è il primo passo del progetto di rinnovo del sistema di raccolta dei rifiuti all'interno del centro storico, deciso dall'amministrazione comunale da Marche Multiservizi. L'obiettivo è quello di migliorare la separazione dei rifiuti e recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili. In questi giorni sono stati diversi gli incontri organizzati da Comune Marche Multiservizi per consegnare ai residenti la carta smeraldo, una tessera magnetica che consentirà di conferire all'interno dei cassonetti gli appositi rifiuti. Ad ogni famiglia verranno consegnate due carte e per chi ancora non l'avesse ritirata c'è tempo fino a sabato 22 ottobre entro le ore 13 recandosi a Palazzo Gradari. In questi incontri non sono mancati i dubbi e le perplessità di alcuni cittadini che dalla prossima settimana dovranno cambiare le proprie abitudini per lo smaltimento dei rifiuti. Dal 24 al 29 di ottobre e dal 3 al 5 di novembre Marche Multiservizi ha organizzato due iniziative. Infatti saranno presenti degli ispettori ambientali in Piazza del Popolo in quelle date per cercare di spiegare ai cittadini residenti nelle zone coinvolte sul corretto utilizzo delle nuove isole ecologiche. Un concreto supporto verrà fornito ai cittadini non solo dagli Infopoint ma anche dagli informatori ambientali che si sposteranno in maniera itinerante fra le sei aree del centro. Tra le preoccupazioni dei residenti non legate all'efficacia o meno del nuovo sistema di raccolta c'è anche quella della perdita di alcuni parcheggi eliminati per il posizionamento dei cassonetti intelligenti. L'assessore Belloni però ha fatto chiarezza rassicurando ai cittadini che a breve saranno disegnati nuovi posti auto di cui sei verranno realizzati a fianco della palestra Carducci, sei in cima a Via Buozzi e sei nella parallela di Via Leopardi. Per i residenti seguire la buona pratica della raccolta differenziata gioverà per due motivi. Uno, contribuire alla qualità della vita urbana e due, essere premiati come cittadini virtuosi per aver svolto una corretta suddivisione dei rifiuti. Questo premio dal valore simbolico consiste in un buono spesa di 30 euro e sarà possibile riceverlo dal momento in cui si decide di applicare sui propri sacchetti un'etichetta identificativa.